Il deputato Salvatore De Idane a facoltà. Grazie Presidente. Quello che sto per chiederle, e spero che entro breve ci sia una smentita, una conferma da parte sua, del Presidente Fico o da parte dei rappresentanti del Governo, perché quanto per denunciare, se fosse vero, è abbastanza grave. In questi giorni, sia ieri che oggi, si sono tenute le commissioni estere difesa per quanto riguarda i decreti sull'Ucraina. Uno di questi, che ovviamente dobbiamo ancora esaminare, cioè il decreto interministeriale, dove prevede l'accessione di armamenti, è stato secretato e comunque è stato dichiarato di sicurezza nazionale. Io ho chiesto se è possibile, sia ieri che oggi, se era possibile sapere l'elenco delle armi, la tipologia, e mi è stato risposto no, perché giustamente c'è una questione di sicurezza. Allora, come è possibile che è finito l'elenco su un quotidiano online, sul Corriere della Sera online, l'elenco preciso e tutto il contenuto del decreto che doveva essere segreto? O il Corriere sta dando un'informazione falsa, o c'è veramente qui, c'è da scoprire chi è che gestisce queste comunicazioni e come è finito un elenco segreto che mette a rischio la sicurezza dei nostri militari e del nostro personale delle ambasciate. Mi sembra che qui si stia adottando veramente, siamo nel ridicolo, siamo veramente nel ridicolo con un ministro degli esteri che va in televisione a insultare un capo di Stato estero, chiamandolo peggio di un animale, e poi si va, i parlamentari, gli viene negato l'elenco delle armi che bisogna, che noi dobbiamo decidere, e poi invece viene pubblicata tutta pagina nell'edizione online di un giornale quotidiano. Com'è possibile che i dettagli di un decreto super sicuro finiscano in un quotidiano online e non invece nelle aule parlamentari? Infatti noi parlamentari eravamo all'oscuro, ci è stato detto che non potevamo vederlo, adesso lo sanno tutto il mondo. Io spero che qui il governo venga subito a smentire che quell'elenco non è quell'elenco e che quel decreto non è quel decreto, altrimenti faccia chiarezza perché qui c'è in gioco la sicurezza nazionale. E non è più un gioco, è non accettabile questo dilettantismo e questa superficialità nel gestire i rapporti diplomatici. Qui si rischia la guerra e qui si tratta di pagliacciate, dilettantismo, per cortesia fate chiarezza, perché qui non accettiamo più, abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare, ma non accettiamo più questa mania di protagonismo e questo dilettantismo. Basta!